Ok, guardi indietro il numero 100, top, rango, 30, alto, maratona, 2.023, buon augurio per tutti, vi vedo la giornata di straordinaria, vi vedo la nostra città, erano pronti a morire il tempo potente a un certo punto, il resto serve divertirsi, guardate qui, più di aggetti, in tutte le età, di ogni provenienza, anche i nostri superpensi, e ci sono ben otto senatori che voglio ancora una volta dire da Tretto alla Maratona. E signori, noi vi aspettiamo tutti in Piazza Uomo. Grazie per la visione!